Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Per quanto riguarda lavori notturni in A1, lunedì 18 marzo, onorario 22.6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio, l'allacciamento con la variante di Vali con località Aglio in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Invitandovi a seguirci sui nostri canali social, vi auguriamo buon viaggio! Grazie a tutti!